Musica Io sono stata cinque mesi ferma a causa di un problema al ginocchio. Cinque mesi sono stati bruttissimi perché ho sofferto, sono passata da sei ore di allenamento a zero. È stato un periodo un po' difficile. Ero un po' tesa questo. E mentre mi scaldavo pensavo solo a come a concentrarmi, a dare il meglio di me, a impegnarmi. Rientrare dentro questa pedana è stata un'emozione bellissima. Grazie mille. Grazie mille. Grazie mille.